La panchina dell'Inter, vicino ad Abate, portiere di riserva, ci sono Massimo Paganin, Ferri, Bianchi e il giovane della prima vetta, trova disponibile a proseguire l'azione, poi Spogliaric. Il trio serbo che comanda le operazioni, in questa occasione battuta centrale, può darsi che poi a Cipro le cose cambino radicalmente, e fatto sta che non sta facendo una gran bella figura davanti al proprio pubblico con Kretzmarevic che semina... Rindiene anche Tramezzani, Sepovic, l'uscita di Zeng... ...e dovrebbe affrontare la trasferta di Limassol con un solo...